Nella consueta diretta Facebook del venerdì il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha presentato il nuovo portale della salute della regione con l'app Campania in Salute, che da lunedì 11 aprile consentirà di prenotare visite specialistiche o accertamenti diagnostici nelle strutture pubbliche aderenti al centro unico di prenotazione regionale della Campania. Con questo nuovo sistema sarà sufficiente inserire i dati della ricetta medica. per visionare e prenotare il primo appuntamento disponibile, che dipenderà dalla priorità indicata nella ricetta stessa. Attraverso tale sistema, ha dichiarato il governatore, tutti i cittadini campani avranno la possibilità di confermare i preappuntamenti per le seconde visite e pagare il ticket con carta di credito, prenotare, confermare e pagare online anche per conto dei propri familiari. Una nuova innovazione che consentirà ai cittadini anche di effettuare il cambio del medico di famiglia, dichiarazioni reddituali ai fini del pagamento del ticket e accedere alla lista delle vaccinazioni.